All'Europa dei mercati e della sicurezza si deve affiancare l'Europa dei cittadini con un ruolo maggiore delle regioni per evitare che i diritti sociali passino in secondo piano rispetto alle esigenze della finanza. Questo è il senso di quanto emerso dalla sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni che si è svolto al Parlamento Europeo di Bruxelles, un dibattito sul futuro prossimo dell'Europa che ha visto la presenza del primo ministro del Portogallo e al quale ha preso parte con un discorso anche il presidente della regione toscana. Meno tassazione sul lavoro, più imposizione sulle transazioni finanziarie e maggiori finanziamenti alle politiche sociali e di coesione europee. Solo così, è stato detto, l'Europa riuscirà a non diventare una mera sommatoria di decisioni politiche nazionali ma un organismo coeso. Un processo che vede le regioni e la Toscana è tra le prime protagoniste schierate in prima linea. Grazie. 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 Grazie.